Il comparto del turismo ambientale non conosce crisi, un settore che fa registrare un incremento del 2% l'anno delle presenze turistiche nei parchi italiani e che si candida a primo asset economico per il rilancio dell'economia del paese. Sotto quest'ottica i parchi diventano il luogo d'incontro tra la green economy e green society, favorendo un turismo sostenibile. Proprio di questo si è parlato all'ortobotanico di Palermo nella seconda tappa verso la conferenza nazionale La Natura dell'Italia promossa dal Ministero dell'Ambiente con Federparchi, Fondazione Sviluppo Sostenibile e Union Camere. Obiettivo principale è supportare il turismo ambientale con strategie e politiche adeguate in modo da favorire una crescita ancora più rapida di un settore traino della nostra economia guadagnando in competitività e creando occupazione. Green Society e Green Economy sono il nuovo percorso, la nuova strada. Dobbiamo sapere solcare questa strada in maniera intelligente per fare in modo che quel pil che non riesce a schiodarsi possa finalmente risalire. Questa nuova tendenza comunque a guardare a quelle che sono le rinnovabili, il mantenimento, la tutela è questa nostra straordinaria occasione tutta siciliana fatta di un territorio che è di fatto tutto un parco. C'è bisogno di qualcosa di più, c'è bisogno che ai dati, ai numeri di quell'economia che fa del turismo nei parchi una nuova ricchezza possa essere vista non come un'occasione ma come una scelta. Si ritiene sia assolutamente necessario e urgente intervenire per aggiornare, rendere più reale, più vicina alle esigenze attuali la legge sui parchi. Questo perché i parchi per molto tempo commissariati, per molto tempo privi di una governance stabile, non hanno fatto delle scelte di governo del territorio e purtroppo questo è un elemento che oggi si sconta pesantemente.